Una ferita insanabile, non solo per la comunità ebraica tragicamente violata, ma per l'intero popolo italiano. Le parole del Presidente della Repubblica, Mattarella, ricordano così quel sabato di orrore, il 16 ottobre 1943, la deportazione degli ebrei dal ghetto di Roma, con cui iniziò una caccia spietata, favorita dalle leggi razziali varate dal regime fascista. Oltre 2.000 italiani di origine ebraica in pochi mesi scomparvero dalla capitale, costretti nei treni della morte verso i campi nazisti. Fu un sabato nero, era un giorno festivo per gli ebrei. Tra le ore 5.30 e le due del pomeriggio, le truppe tedesche della Gestapo effettuarono una retata di 1.259 persone, tra donne, uomini, bambini, anziani e invalidi. Vennero caricati in camion militari coperti da teloni e poi deportati direttamente al campo di sterminio di Auschwitz, dove furono suddivisi in due gruppi, quelli fisicamente sani e quelli ritenuti inabili al lavoro. 820 persone furono condotte nelle camere a gas, mascherate da zona docce. Quello stesso giorno i loro cadaveri furono bruciati nei forni crematori. Soltanto 16 deportati sopravvissero. L'unica donna, Settimia Spizzichino, morì nel 2000. Il ricordo non può non fermarsi ai 200 ragazzi strappati quella mattina di ottobre dalle loro case attorno al portico d'Ottavia. Nessuno di loro, sottolinea ancora Mattarella, riuscì a sopravvivere e a fare ritorno nella terra dei loro padri e dei loro giochi, davanti all'olocausto, abisso della storia. Torniamo a inchinarci.